La situazione per quanto riguarda l'epidemia di Covid-19 in Italia è la seguente. Per quanto riguarda la circolazione del virus, che io seguo con la percentuale di positive ai test molecolari, abbiamo raggiunto il picco il 6 gennaio, la curva media, quella depurata dalle oscillazioni giornaliere, ed è iniziata una discesa, però negli ultimi sei giorni dopo la discesa c'è stato un appiattimento e ora negli ultimi sei giorni siamo in stasi e questo in passato è stato un po' il preludio per una nuova risalita, il che non sarebbe una sorpresa in quanto adesso siamo dopo il tempo canonico, quello dei 10-14 giorni dall'inizio dell'attività scolastica. È vero che quest'anno abbiamo la vaccinazione dalla nostra parte, però è anche vero che la copertura vaccinale della fascia dai 5 ai 12 anni è intorno al 14% e di quella dai 12 ai 19 anni è intorno al 78%, ma con una percentuale di solamente il 18% di soggetti che hanno fatto la terza dose tra quelli che hanno fatto la seconda. Buone notizie ci sono in realtà sul fronte dell'occupazione degli ospedali e quindi dell'impatto della circolazione del video sul sistema ospedaliero. Ricordo che generalmente questa curva segue un po' quella dell'andamento del contagio, ma spasata di due o tre settimane circa. Bene, lì appunto l'11 di gennaio abbiamo raggiunto il picco degli ingressi in terapia intensiva, questa anticipa un po' rispetto a quella delle ospedalizzazioni, diciamo, e stiamo in discesa. Buona notizia anche da quanto riguarda i decessi, che appunto dall'analisi che faccio io alle differenze settimanali risulta che è in una crescita frenata e durante questa settimana dovremmo raggiungere il picco e poi discendere. Chiaramente c'è l'incognita, come dicevo io, della variabile che per prima cambia, che è quella del percentuale dei positivi dei test molecolari, che è quella che per prima appunto varia e ci dà la circolazione del virus. Lì appunto c'è una grossa incognita e questo secondo me dovrebbe avere un peso per quanto riguarda le riaperture che dovrebbero essere fatte in modo molto attento e graduale. Grazie a tutti.